Il mio nome si pronuncia Frankenstein La parodia del celebre film di James Whale Ispirato alla mostruosa creatura di Mary Shelley La versione italiana è diretta dal regista Saverio Marconi E Giampiero Ingrassia veste proprio i panni del dottor Frankenstein Insieme a lui un cast straordinario E una compagnia altrettanto straordinaria La Compagnia dell'Arancia Che porterà il musical e scena a Milano Al Teatro della Luna di Assago Dal 17 al 27 di gennaio Ecco voi le immagini della conferenza stampa